Questo piatto è stato creato e sviluppato perché rispecchia totalmente la mia idea di cucina. Quindi quello di ricordare un qualcosa, un qualcuno, un avvenimento in particolare attraverso il cibo. Questo per far passare alle persone quello che realmente voglio trasmettere io con l'idea di cucina. Sono dei fileia, quindi è una pasta tipica calabrese, va a riprendere mia nonna, quindi la sua terra d'origine, con un fondo di cinghiale, una spuma di scamorza affumicata, dei petali che vengono fatti con un peperone che viene seccato, viene coppato con degli appositi stampi, viene vetrificato inserendo questi piccoli petali all'interno di un olio a 85 gradi. Per finire il piatto viene finito con il fondo, che è il fondo del cinghiale, e un olio all'anduja. Di fianco, sull'alzatina, troviamo un piccolo bao, che è un panino al vapore, fatto con lievito madre. dove all'interno troviamo uno stracotto di cinghiale. Questo piatto mi ricorda tantissimo la domenica, la domenica in famiglia, passata la mia nonna, perché lei ogni domenica, quando ci sono io a mangiare, quelle poche volte che non lavoro, mi prepara questi fusilli con il rago di cinghiale, quindi questo è un omaggio a mia nonna.